benvenuti e bentornati sul mio canale youtube eccomi qua con un nuovo video e allora partiamo subito allora prima di tutto volevo farvi un aggiornamento sul mio lavoro a maglia il mio famoso cardigan che sta crescendo come vedete sono riuscita diciamo fare quei benedetti tagli nelle maniche per riprendere poi i punti e sul sul davanti e ho fatto questo bordo che è molto carino vabbè non è ancora lavato il maglione quindi deve però veramente molto carino e insomma qui si va si va avanti e poi naturalmente vi terrò aggiornati allora intanto oggi volevo aggiornarvi anche sui prodotti per i capelli che ho qua non so se vi ricordate che vi avevo parlato di questa linea di prodotti che ho comprato a Tigotà eccolo qua la maschera e lo shampoo questo è un trattamento all'acido ialuronico ora naturalmente non è che posso dirvi che rende i capelli luminosi e fluenti perché i miei capelli ancora sono un po lanuginosi con la ricrescita quindi non sono ancora i miei capelli diciamo veri spero che torneranno ma comunque va bene e però devo dire che effettivamente la sensazione che posso dirvi ora è già un po che lo uso sia lo shampoo che la che la maschera trattante devo dire che ho la sensazione proprio di avere il capello un pochino più corposo ecco quindi questa è un po la sensazione che ho per cui chi magari ha capelli di me se vuole provare magari mi sta anche dire se li può rendere anche più luminosi o lucidi o meno insomma ecco io quello ancora non posso non posso dirvelo perché appunto il capello è quello che è della stessa diciamo dello stesso brand ho preso anche questo che è un latte spray all'olio di cotone che serve un po per diciamo togliere un pochino il crespo ecco insomma non è che abbastanza diciamo fa abbastanza al suo dovere ma i capelli sono quello che sono comunque li trovo comunque molto gradevoli non solo come consistenza di shampoo ne basta pochissimo ora poi io veramente c'è anche pochi capelli quindi mi durerà due anni ma anche a un profumo veramente molto gradevole e che rimane e rimane e quindi insomma da questa sensazione di pulito e si sente proprio anche nei capelli quindi allora ve lo rifaccio vedere si chiama noa anche la maschera all'acido ialuronico devo dire che mi stanno piacendo molto e poi vedremo quando li avrò un po più lunghi allora altra cosina che mi sono che mi sono comprata vabbè queste sono le solite stupidatine che mi prendo come bambine una piccola agenda l'ho comprata su amazon si chiama blumen di coco not che è un brand insomma che fa anche di cartoleria è bellina cioè molto colorata su tanti fiori c'è leopoldo è che sta notisce il segnalibro è insomma carina e se avete delle cosi io ancora quest'anno diciamo note di lavoro non potrò scrivere annotarle ma spero comunque di mettere delle cosine delle cose carine insomma e vabbè e questa è la mia agenda per questo nuovo anno allora alcuni di voi mi hanno chiesto se potevo così parlarvi un po della della mia routine ecco è sceso ora forse vedrete anche leopoldo ciao leopoldo che vuole naturalmente uscire ha dormito finora vi metto un attimo in pausa e poi torno ecco spero di aver fatto danni allora qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti se potevo raccontarvi un po della mia routine della mia skin care routine diciamo nel periodo ora diciamo all'inizio autunno e poi per l'inverno insomma allora ho pensato che potesse essere una cosa carina interessante ora io non è che faccio dei cambiamenti così radicali però insomma vi spiego un po quello che sto utilizzando in questo momento allora per prima cosa volevo sempre appunto parlarvi della doppia detersione perché per me è stato proprio diciamo il capo il cambiamento che ho visto di più e più nettamente sulla mia pelle quindi una pulizia accurata che doppia detersione non significa che è una pulizia del viso aggressiva ok però profonda e quindi questo ha veramente determinato proprio secondo me cambiamenti che poi sono avvenuti successivamente cioè la pelle veramente più più pulita più detersa e quindi in questo modo ha potuto proprio assorbire poi il diciamo i prodotti che ho messo successivamente nel modo migliore e quindi i risultati secondo me si vedono di più facendo appunto una pulizia ben fatta molto bene allora quindi che cosa uso allora aspettate perché qui ho fatto in braccio praticamente allora praticamente sto usando sempre da quando ho iniziato la prima parte della pulizia della pulizia con dei prodotti oleosi quindi in questo momento sto utilizzando questo olio detergente di Shiseido che è buonissimo è comunque molto delicato anche se non è consigliato cioè non si consiglia di utilizzarlo negli occhi perché può ovviamente provocare bruciore quindi io lo uso al mattino se voi lo utilizzate anche alla sera e quindi magari dovete togliere il trucco dagli occhi consiglio di usare prima uno struccante per gli occhi e poi usare questo ok altrimenti potete invece utilizzare che io lo adoro questo che è un balsamo struccante di vanilla ko che è un brand coreano scusate che mi sposto un po' le cose è un brand coreano ed è già la seconda confezione che utilizzo è il primo burro struccante che ho comprato quando ho iniziato questa questo tipo di routine e devo dire che è anche quello con cui mi sono trovata meglio perché intanto ne basta veramente pochissimo e si distribuisce molto bene sulla sul viso c'è una una palettina proprio per non intingerci le mani e ha un profumo quasi di frutti rossi ma è proprio molto molto leggero però è piacevolissimo e non brucia gli occhi quindi strucca molto bene non brucia gli occhi e non li appanna quindi direi che secondo me questo è un ottimo compromesso ora io ne uso due di prodotti ma più perché così perché mi piace provare ma a voi ne basta uno cioè non è che bisogna per forza comprare due tre detergenti o le oleose insomma basta che ne scegliete uno che vi torna bene che possa appunto fare al caso vostro comunque entrambi sono cioè vanno bene per tutti i tipi di pelle quindi insomma scegliete voi allora dopo la detersione quindi con il prodotto oleoso passo invece a una detersione con un prodotto schiumogeno in questo caso è una mousse ve l'avevo già accennata nei prodotti diciamo delle novità anche questo è un marchio coreano più nulla non so la pronuncia coreana lo pronuncio così è una mousse allora intanto devo dirvi questo il profumo è buonissimo ma come del resto tutti i prodotti coreani hanno sempre delle delle fragranze floreali ma fresche però sempre comunque delicate la mousse non è pannosa però ne basta un pump è veramente basta per viso collo decollet e quindi veramente ne basta pochissimo detergente molto bene è un detergente proprio per pelli delicati c'è la centella asiatica ok quindi che è l'initiva e va proprio anche a riequilibrare il ph naturale della pelle quindi lo sto trovando veramente un ottimo un ottimo detergente quindi ecco io l'ho comprato su amazon non mi ricordo quanto l'ho pagato ma non molto e quindi buono veramente un buon prodotto appoggio in terra allora poi dopo la detersione allora dopo la detersione andiamo proprio a dare un attimo di come dire di di frescura e riportiamo un po la pelle a un certo equilibrio con l'uso del tonico allora in questo momento ho scelto di utilizzare questo tonico di questa lozione tonica di aven è anche questa lenitiva per pelli sensibili secchi molto secchi ora io non ho una pelle secca però lo trovo veramente molto idratante è proprio addolcente è proprio addolcente quindi è molto tranquillo come tonico anche perché poi adesso in questo momento sto utilizzando due sieri nuovi uno per il giorno e uno per la sera e quindi volevo proprio mantenere una una routine cioè un utilizzo di prodotti molto tranquilli quindi per pelli delicate ecco però proprio perché volevo capire bene come poi vanno ad agire questi sieri quindi questo questo tonico lo trovo veramente delizioso mi raccomando usate sempre il tonico il tonico e anche eventualmente l'essenza la essenza ora in questo momento io allora questo tonico io lo uso sia nella skin care routine della mattina che alla sera quindi uso lo stesso tonico e faccio la doppia detersione sia al mattino che alla sera ora diciamo che è assolutamente importante che voi facciate la doppia detersione la sera ok quindi al mattino potete anche fare semplicemente con un con un con una mousse con un gel eccetera però io devo dire che mi trovo bene facendola comunque sia al mattino che la sera ecco poi dopo il tonico c'è l'essence allora l'essence che cos'è è proprio un prodotto che sta a metà tra appunto il tonico e il sieri quindi diciamo il trattamento vero e proprio è il siero la essenza è proprio un prodotto a metà insomma a metà strada la skin care coreana cosa fa dopo la detersione diciamo da questi passaggi di idratazione a steppano quindi da prodotti più liquidi come il tonico a prodotti un pochino più densi poi fino ad arrivare alla crema insomma la crema idratante vera e propria allora in questo momento io ho in uso due essence allora partiamo da questa anche se questa in questo momento la sto usando di sera è secret key è il brand coreano questa si chiama gold premium first essence e è deliziosa allora è 150 ml io sono qua la sto usando da marzo cioè per quello che io vi dico i prodotti coreani durano un'eternità un'eternità perché veramente ne bastano tre gocce ma e non so basta veramente per viso collo e decolleté è fantastica questo è veramente già un proprio uno step di idratazione è buonissimo il profumo è fantastico insomma quindi io comunque questa ve la consiglio se volete provarla queste pagliuzze d'oro 24 carati comunque non so ora veramente il loro scopo però il prodotto è buonissimo ed è anche un pochino più latiginoso un pochino più densa di giorno però uso questa di acqua che sapete è un brand israeliano si chiama time to smooth e in questa diciamo essence come un po in tutti i prodotti di questa azienda c'è questo complesso di sali minerali del morto che si chiama osmoter di osmoter che è proprio un catalizzatore di idratazione quindi è veramente un primo passaggio un passaggio molto importante per dare di nuovo nutrimento alla pelle no dopo quindi dopo la pulizia dopo il primo passaggio appunto del del tonico questo è già cominciamo già proprio a dare nutrimento alla pelle quindi io la adoro profumo proprio delicatissimo non si sente quasi e anche questa io la uso la metto come il tonico e non uso il dischetto di cotone la metto qualche goccia sul palmo della mano e poi la tampono per bene ok quindi importante il passaggio comunque del tonico assolutamente sì la essenz vedete voi insomma se volete provarla con i comprate una e vedete un po come se vi torna se vi piace appunto il suo utilizzo poi passiamo ai sieri allora come vi dicevo sto iniziando due nuovi sieri allora di giorno utilizzo questo di madara cellular serum cioè marco è la linea allora è molto buono non avevo dubbi e madara è un'azienda letto nebbio certificata insomma veramente fa dei prodotti veramente buonissimi allora che cosa di caratteristica in questo siero che ha un l'acido ialuronico a più pesi molecolari significa cioè che ha delle molecole più grandi un po più piccole per cui penetrano in diversi strati della pelle quindi come l'acido ialuronico richiama diciamo l'umidità e la va a trattenere va quindi a idratare diciamo così a stimolare l'idratazione anche i livelli più profondi della pelle quindi non solo in superficie quindi lo sto usando da solo quindi non sto utilizzando altri sieri al mattino proprio perché voglio vedere un po come si comporta e devo dire che mi piace molto tra l'altro ha intanto questo questo complesso di piante del no set e piante del nord che oltre all'acido ialuronico vanno proprio a intanto a come dire a proteggere la pelle cioè sono antiossidanti e poi c'è questo 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 estratto di betulla che permette proprio rinnovamento cellulare quindi è un un prodotto diciamo a tutto tondo che mi piace molto anche il profumo è più una cremina e rispetto ai sieri lo faccio vedere è più una cremina verdolina a questo profumo erbaceo però molto delicato sa quasi di te non so l'impressione non ci sarà alte però a questo profumo veramente molto molto piacevole si distribuisce abbastanza bene viene subito assorbito dalla pelle quindi è veramente molto buono ecco una un consiglio poi vi faccio vedere quello che sto usando ora che è questo di estee loader advanced night repair dove c'è naturalmente anche qui l'acido ialuronico volevo però dirvi questo quando usate soprattutto i seri con l'acido ialuronico la cosa importante è lasciare la pelle piuttosto umida quindi usate il tonico o l'essenza l'essence non fatela assorbire completamente dalla pelle ma date il siero quando la pelle è ancora umida proprio perché questa umidità poi la va a portare anche all'interno quindi è quello di cui ha bisogno sera la sera sto utilizzando finalmente questo siero advanced night repair di estee loader è un siero famosissimo di questo di questo brand è anche molto costoso e lo sto usando la sera solo questo vedete con anche prodotti che uso da sempre per cui se senza aver sconvolto troppo la diciamo la base su cui vado a diciamo ad inserirlo dove l'ho inserito anche qui naturalmente a questa questa diciamo forte concentrazione di acido ialuronico è comunque un antiossidante va proprio a rigenerare diciamo a sollecitare il rinnovamento cellulare durante la notte ma si può usare naturalmente anche durante il giorno ha un antiossidante va proprio a rendere la pelle più elastica più morbida ovviamente incide anche sulle rughette quello vedremo insomma comunque effettivamente la sensazione comunque di una pelle più uniforme più compatta e mi sta piacendo molto 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 quindi veramente lo sto apprezzando tantissimo allora veniamo al contorno occhi contorno occhi per la per il giorno sto utilizzando questa la vitamina ci dico da lì è una una cremina veramente molto buona proprio rende l'aspetto dell'occhio più riposato al mattino non so io sapete che ho sempre un po il problema di avere ancora un po soprattutto in questo occhio qua un po di borsetta di liquido insomma ora durante il giorno poi vanisce ma comunque ho ancora quel problema questo però comincia proprio a distendere leggermente a levigare a dare un po questa sensazione appunto di luminosità ecco quindi devo dire che è una un ottimo contorno occhi la sera invece continuo quindi non ho cambiato la mia routine serale continuo ad usare questa maschera di so a sardinio si chiama cryo maris all'interno ci sono appunto delle alghe quindi ci sono dei principi attivi che vanno praticamente a simolare la microcircolazione di questa zona quindi è proprio specifico soprattutto per chi ha le borse e quindi insomma questo devo dire che continuo a usarlo perché mi piace moltissimo allora a questo punto allora vi ho detto che in questo momento uso solo un siero al mattino e un siero alla sera è perché voglio capire come effettivamente si stanno comportando niente vi vieta di usarne anche degli altri ecco quindi ci si possono sovrapporre i sieri e non c'è nessun problema mi passiamo alle creme le creme idratanti allora ho messo in uso questa di colista di cui vi avevo parlato nell'ultimo video questa l'acido ialuronico questa è una crema e ha un acido ialuronico a quattro pesi molecolari quindi diciamo comincia ad essere una crema idratante ma con qualche cosina di più quindi anche diciamo un trattamento è buonissima allora intanto è proprio ora si chiama è della linea tv puri è un acqua gel è un gel proprio però è diciamo opaco ora ve lo faccio vedere tanto anche alle ceramidi non so se si vede eccolo qua ma è fantà tanto si assorbe immediatamente c'è la mia pelle veramente se lo beve ma lascia la pelle estremamente compatta la sentite proprio più soda perché ha questa questa sensazione e anche non ha l'effetto glow ecco non che a me non dispiace l'effetto glow di certe creme devo dire la verità però questo non ce l'ho non ce l'ha e quindi può essere un'ottima base per il trucco ora in questo momento io non sto usando fondotinta niente per cui non vi so dire esattamente però l'impressione è quella quindi io questa vela consiglio perché è stupenda io ho già usato altre creme di collis sono sempre trovata bene ma devo dire che questa mi piace tantissimo la sera invece dopo il siero di estelo dera uso questa allora questa è la crema alla giorno perché il diciamo il provino da notte l'ho finito e e quindi naturalmente la l'ho passata alla sera è una crema leggera e non è una crema da notte ma per me va bene bene ho già parlato di questa crema estremamente leggera antiossidante a questa ecco ha un po il colorino è un pochino più ecco rispetto all'acqua gel questa vedete più è più come dire un pochino più corposa sembra che vi dico che è una crema pesante però insomma è più cremosa vabbè l'altra è un gel questa è una crema e ha questo estratto anche di al cetriolo quindi che tonifica rinfresca quindi è ovviamente più indicata per il giorno io comunque la l'ho passata alla sera perché volevo provare l'altra e comunque non si butta via niente quindi va benissimo ok anche per la sera specialmente se avete una pelle mista grassa come la mia per cui insomma le creme da notte a volte possono essere un po troppo diciamo generose diciamo così generose dunque invece volevo allora vi ho parlato più o meno di tutto allora l'ultima cosa da giorno naturalmente la protezione è per il viso durante il giorno la mattina ora in questo momento sto usando questa dico da lì fattore protezione 50 più è la messa sempre questa è proprio va shakerata è proprio è molto liquida è molto liquida diciamo che ci impiega qualche minuto a da assorbirsi è quindi non vi spaventate poi dopo sparisce però qualche qualche istante ci vuole anche se appunto quasi è un fluido praticamente però un attimino ci vuole ecco e poi dopo sparisce piccolo appunto sulle diciamo sui gommage che sta utilizzando queste che quasi finito dico da lì questa praticamente è una una maschera con questi granulini che sono praticamente i semini della dell'uva che vengono triturati ma sono sottilissimi per cui è vero è veramente un peeling gommaggio molto delicato va benissimo anche per le pelli secche o sensibili profumo buono fresco lascia la pelle veramente pulita a fondo quindi insomma io trovo un ottimo prodotto poi insomma sapete che codali a me piace tantissimo ma un'altra maschera invece di cui non vi avevo parlato mai ma è favolosa è questa di epoda questa desitox è una una maschera all'argilla alla vitamina c alla vitamina c che ha naturalmente la sua il suo applicatore a un pennellino che però è una vitamina c allora estratta da questo frutto che si chiama usa che è una una specie di limone cioè assomiglia a un limone ma ha una quantità di vitamina c molto molto superiore è fantastica questa crema questa maschera questa va tenuta in posa quando si usa sia questa quindi gommage o il peeling comunque sono delle maschere a risciacquo si utilizzano praticamente subito dopo la pulizia del viso quindi dopo la doppia detersione poi dopo si utilizza il tonico la essence eccetera questa si lascia in posa 15 minuti circa non non si secche soprattutto non tira la pelle che la cosa importante secondo me poi lascia quate via naturalmente lasciate libero il contorno occhi e avrete una pelle luminosissima compatta uniforme ma una cosa è un pazzesco quindi io alterno questa la uso due volte alla settimana circa eccetera questa una volta la settimana veramente favolosa quindi se posso darvi un consiglio assolutamente provate quelle un'altra cosa che vi volevo aggiungere che sto utilizzando questa di nux che ho iniziato da usata già tre volte tre quattro volte è un gel questa è una maschera gel però detergente la uso al posto naturalmente di questa non la uso tutti i giorni io quindi dopo la pulizia dopo la doppia detersione io passo questa maschera che è proprio un gel all'estratto di rosa buonissima un profumo se vi piace la rosa però non è un profumo forte proprio un gel che voi applicate ne basta pochissimo applicate sulla pelle per bene lasciate in posa un minuto e poi risciacquate avrete una pelle fantastica quindi diciamo come ulteriore passaggio non l'avevo mai provato un prodotto del genere lo trovo veramente veramente efficace quindi mi piace moltissimo poi passiamo alle maschere in tessuto le maschere in tessuto si fanno praticamente dopo la essenza quindi prima della del siero volendo favolose perché sono ricche di siero allora queste sono le ultime due che mi sono rimasti di questa serie sempre di questo marchio di un null di che un marchio coreano che sono favolose sono ricche ricche di di siero e le compro le acquisto su amazon ci sono vari kit di 14 maschere le potete scegliere tutte diverse tutte di uno stesso tipo insomma sono veramente buonissime quindi in questo vi posso garantire di questo vi posso garantire poi altrettanto buone e ricche di serio sono le maschere di garnier anche qui ce n'è una scelta vastissima quindi con garnier anche qui non non sbagliate perché sono veramente tutte buone ci sono all'acido ialuronico queste sono la vitamina c questa è l'idra bomb va illuminate insomma veramente ce n'è di tutti i tipi sono tutte buone soprattutto non non scivolano perché invece ne avevo usata una o due di kiko e sinceramente non mi erano piaciute proprio che mi venivano via mi pare di avervi detto tutto nel frattempo sta anche rientrando leopoldo dal suo giletto fuori io che posso dirvi spero di non aver fatto un video lunghissimo volevo ringraziarvi ancora per tutti i nuovi iscritti io veramente sono sono commossa dai vostri commenti sono contenta che vi piacciono i miei video per stare qualche minuto un po in compagnia fanno tanto bene anche a me io passo molto tempo da sola per vari motivi e quindi questo contatto anche per me è reciproca insomma la compagnia che ci facciamo e quindi niente volevo ringraziarvi cioè sono io che ringrazio voi il prossimo video se vi va vi parlerò anche del di come usare i ferri circolari per iniziare magari se avete voglia qualche piccolo progetto e che dire nient'altro io vi ringrazio sono qua vi aspetto al prossimo video un bacio grande a voi buona giornata